Tu credi nella risurrezione della morte? Credi che Gesù Cristo è veramente risorto? Credi che anche tu risorgerai? Che le persone care risorgeranno? Probabilmente, come i Sadducei, anche noi non conosciamo veramente la scrittura e soprattutto non conosciamo il potere che ha Dio sulla morte e proiettiamo sulla risurrezione dai morti, sulla vita eterna, i nostri desideri, i nostri pensieri umani, mondani. Immaginiamo il cielo, la vita eterna, come una partita di ritorno di una finale di Coppa. La prima partita è andato malissimo, abbiamo preso un sacco di botte, un sacco di cartellini gialli e rossi non meritati, sudore, fatica, sforzi, sangue, senza riuscire a fare nemmeno un gol, anzi prendendone una caterva. Ebbene, se il cielo esiste, deve esistere una partita di ritorno dove ribaltare il risultato. Concretamente, nella vita quotidiana, ciò che tu e Dio desideriamo è esattamente questo rimettere le cose a posto, in ordine, secondo l'ordine che abbiamo stabilito noi, secondo l'unica giustizia che ci farebbe felici, che ci sazierebbe, che ci darebbe la pace. E invece oggi, il Signore, come già ai Sadducei, ci annuncia tutt'altra cosa. Se per la risurrezione, se per il cielo, per la vita eterna, usiamo categorie umane, se ci basiamo sui nostri sentimenti, sui nostri desideri della carne, più o meno verniciati di religiosità, siamo in grande errore. Perché alla risurrezione, nella vita celeste, non prenderemo più né marito né moglie, cioè la nostra vita trascenderà quella della carne. Non è che non avremo più rapporti, non è che non riconosceremo più le persone care, e non è nemmeno pensabile che non ameremo più le persone care, ma tutte le relazioni saranno trasfigurate. Saremo come angeli, e angelo vuol dire innanzitutto messaggero, annunciatore. Saremo cioè, l'uno per l'altro, l'annuncio credibile, autentico, visibile dell'amore infinito di Dio. Perché senza più i limiti della carne, senza più i peccati, vivremo alla presenza di Dio. Cristo sarà tutto in tutti. Cristo sarà tutto per tua moglie, Cristo sarà tutto per tuo marito, Cristo sarà tutto per i tuoi figli, Cristo sarà tutto per te. Vivremo cioè in Cristo, perché il cielo è Cristo, il cielo è Dio. L'amore infinito che prende possesso di noi e ci trasforma in amore, in un amore incorruttibile, infinito, che ci unisce a Dio in modo indissolubile. L'amore come il rovetto ardente di Mosè, che brucia e non si consuma. Per questo il Signore oggi ci dice che Dio è il Dio di Abramo, è il Dio di Isacco, è il Dio di Giacobbe, è il Dio dei vivi, perché Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi oggi in Lui. E questo concretamente significa che Dio è il tuo Dio, il Dio di tuo nonno, di tua nonna, il Dio di tuo padre, il Dio di tua madre, il Dio di tuo figlio, il Dio di tua figlia, il Dio dei figli, dei tuoi figli. Perché credere nella risurrezione significa appoggiare completamente la nostra vita in Lui, accogliere il suo amore in noi, dimorare nel suo amore. Perché se Dio, che è amore, è amore incorruttibile, prende oggi, qui sulla Terra, dimora in te, la tua vita è già qui trasformata nella vita di un angelo. Perché ogni pensiero, ogni parola, ogni gesto, ogni atteggiamento saranno impregnati d'amore, scaturiranno dall'amore come da una fonte inesauribile, annunceranno amore in ogni istante a ogni persona. Per questo credere nella risurrezione significa vivere qui in Cristo da risorti, vivere cioè già qui, pur con i nostri limiti, con le nostre debolezze, con le nostre cadute, la vita divina. Perché Dio non è Dio dei morti, non è Dio dei falliti, ma è il Dio dei vivi. È il tuo Dio, è il mio Dio, che ci fa attraversare ogni giorno la morte, le difficoltà, le sofferenze, le umiliazioni, le malattie, le ingiustizie, da vittoriosi in Cristo, da risorti in Dio.